Nel giorno in cui ad Aversa, in provincia di Caserta, un tragico incidente in un cantiere ha provocato la morte di un operaio e il ferimento di un altro, a Napoli, a Palazzo San Giacomo, si è discusso proprio di sicurezza sul lavoro. Nell'incontro organizzato dal Comune di Napoli, il Vice Sindaco Raffaele Del Giudice, il Presidente dell'Osservatorio per la Sicurezza sui luoghi di lavoro, Vincenzo Solombrino, e la Professoressa Maria Triassi, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università Federico II, hanno discusso di quanto sia importante mantenere costante l'attenzione sul tema. Ai nostri microfoni il Vice Sindaco Raffaele Del Giudice. Questa è una giornata importante perché è proprio tema questo nazionale, gravissimo sulla sicurezza del lavoro, sulle vittime, le cosiddette morte bianche. Oggi noi con l'Osservatorio Cittadino sulla Sicurezza del Lavoro, col Presidente, con gli altri assessori, il Sindaco in prima persona, l'amministrazione ne fa un punto centrale creando la cultura della prevenzione e della sicurezza sui luoghi del lavoro. Ciò che è emerso con forza durante l'incontro è che parlare di sicurezza sul lavoro è fondamentale, ma non basta. Bisogna spingere sia le aziende che i lavoratori ad avere una vera e propria cultura della sicurezza che metta al centro la prevenzione contro gli incidenti. Le parole della Professoressa Triassi. Occorre tenere alta la guardia sulla cultura della sicurezza perché oltre ai rischi specifici in tutte le attività esistono i rischi generici, ovvero cadute, incidenti, malattie professionali. Noi come Università insistiamo molto sulla formazione ed insistiamo molto sulle sinergie tra Università, enti locali come appunto il Comune di Napoli, Industria come Metropolitana, Anzaldo eccetera per lavorare tutti insieme.